Al quinto posto, abbiamo la Kiko Video Baby Monitor Smart 260. Kiko Video Baby Observe è dotato di un grande schermo LCD ad alta risoluzione che permette ai genitori di monitorare i propri figli in tutta sicurezza sfruttando al contempo una varietà di funzioni. Il monitor ha una portata fino a 220 metri e fornisce una connessione solida e senza interferenze grazie alla tecnologia all'avanguardia. Non poteva essere trascurata la capacità di visione notturna, come un monitor con telecamera, permettendoti di tenere d'occhio il tuo bambino anche di notte attraverso foto chiare e nitide. Il monitor può essere posizionato ovunque nella stanza e si accenderà automaticamente in caso di rumore. La tecnologia DEC garantisce una stabilità di trasmissione ottimale riducendo al minimo le interferenze. Al numero 4, abbiamo Victure Baby Monitor. Stiamo esaminando il Victure Baby Monitor BM32, un dispositivo con una fotocamera e una serie di altre funzionalità che possono rendere la vita più facile per i nuovi genitori. La funzione Modalità VOX del monitor consente di emettere un abiso ogni volta che il bambino urla, anche quando la fotocamera è spenta. Include una sveglia per impostare l'ora di un pasto o un pisolino, visione a infrarossi per ottenere foto nitide anche durante la notte e un sistema di monitoraggio della temperatura ambientale per verificare se l'ambiente in cui dorme il bambino è confortevole in qualsiasi momento. Il microfono e l'altoparlante offrono una qualità audio eccezionale, permettendoti di shattare o cantare una ninna nanna senza essere interrotto ogni volta che il bambino urla. Al terzo posto, abbiamo la Philips Avent Salute e Controllo. Con un gadget a marchio Philips particolarmente funzionale, continuiamo la nostra valutazione dei migliori Baby Monitor attualmente disponibili sul mercato. Questo è un Baby Monitor Philips Avent SCD503, ampiamente utilizzato da molte famiglie. La presenza del dispositivo dell'esclusiva tecnologia DECT garantisce un audio pulito e chiaro e una connessione stabile. Ha anche una luce notturna calda e delicata che può essere utilizzata per rilassare il bambino e fornire un ambiente accogliente e confortevole mentre dorme. Quando si esce dall'area di ricezione del monitor o la batteria sta per esaurirsi, l'unità genitore si riattiva inviando una notifica. Al numero 2, abbiamo il Victure 1080p Telecamera Wi-Fi. Victure 1080p è un Baby Monitor High-Tech a basso costo che ti consente di tenere d'occhio tuo figlio in ogni momento, semplicemente dal tuo smartphone. È, infatti, dotato di una telecamera integrata in grado di rilevare qualsiasi movimento o anomalia e allertare l'utente tramite un avviso di allarme. Le fotografie in questione verranno poi salvate istantaneamente sul cludo su una scheda SD, dandoti la possibilità di valutare la dinamica dei fatti. È in grado di interagire con il giovane, consolarlo o rassicurarlo della tua presenza, grazie al microfono incorporato. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Availando Full Love Baby Voden Edition. Un Baby Monitor unico che è anche attraente per gli occhi, grazie alla sua struttura in plastica bianca e legno naturale. Una telecamera motorizzata segue automaticamente i movimenti del bambino, è una telecamera che può essere cambiata direttamente dall'unità genitore tramite gli appositi pulsanti di direzione. La telecamera può ruotare orizzontalmente di 360 gradi, permettendoti di tenere d'occhio tuo figlio da ogni angolazione della stanza e di non perdere mai un movimento. Il Baby Monitor Availando Full Love ha una lunga portata e fornisce una connessione coerente, sicura e priva di interferenze. Include anche un allarme che suona se il monitor o la fotocamera perdono la connessione. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Grazie per aver guardato il nostro canale.